Sono Ornella Campanella, sono la presidente di Abracadabra, che è l'associazione che rappresenta le persone con la mutazione dei geni BRCA e qui oggi abbiamo presentato il docufilm Geni Ribelli, un modo per gestire questo pacchetto di informazioni enormi che spesso le persone non sanno come gestire e con questo docufilm leggero speriamo di dare tante informazioni come una valigia con un trolley e accompagnare le persone in questo percorso che può essere opportunità di prevenzione per il cancro anche in un linguaggio giovane, i giovani hanno bisogno di essere protetti e messi in sicurezza.